Qui Mattis, mi ritrovate ragazzuoli, dopo tanto tempo, oggi siamo su Jump Force, io mi sono comprato la PS5, quindi il gioco è versione PS4, però lo sto provando sulla PS5. Praticamente la PS5 è retrocompatibile, questo vuol dire che oltre ai giochi che ci sono per la PS5 possiamo usare come giochi della scorsa generazione. Comunque rigordo un po' il gioco per chi non lo conosce, praticamente Jump Force è un gioco dove ci sono tutti i personaggi degli anni, dove c'è tipo Dragon Ball, Once Upon a Time, Naruto, tipo lo potete vedere, Coach e Goku, Freezer, Trunks, Naruto e tutti i loro amici, ovviamente anche i loro alleati, poi tipo i cavalli dell'Ezio Dioco e tanti altri anime, quindi Guerriere e altri. Per blocco ci sono tipo anche le loro mappe, nel senso non c'è solo le mappe di quell'anime ma di tutti, ma non solo degli anime ma ci sono anche tipo le mappe reali tipo Los Angeles, New York eccetera. Comunque io mi sono scelto Freezer e Sale perché sono i miei personaggi, cioè i miei cattivi preferiti di Dragon Ball, guarda anche Nochimbu mi piace però Nochimbu è presente nel gioco, però non lo posso usare perché devo comprarlo, però perché è un DLC tipo anche altri personaggi, però mi sembra che costa 3 euro, però non l'ho comprato perché tanto alla fine. E' un DLC tipo anche come era la grappa di questo gioco, c'era figato, c'è guarda davvero bello la grappa, c'è guarda come si danno le mazzate, e c'è bisogna rupitare i miei personaggi con le stesse land. E' bastato un po' superiore, però io faccio una bella cosa. Comunque peccato che ne ho doppiati in italiano, c'è gioco in lingua originale mi sembra, però c'è anche in inglese, in giapponese mi sembra, però almeno è come si è freddita lì. Comunque guarda che scontro spettacolare. Vediamo quanto mi piace questa mossa. Vediamo questa cosa della barriata molto bene. Cioè ragazzi ho ottenuto il personaggio di nuovo, io questo personaggio non lo conosco, non non so di chiamine sia, però comunque ho scelto perché non ho curato la sensazione di non c'è lì, ho provato, ma non ho messo interessato. Chiarato ci siamo trasportati, ma si faccio la suprema, spera di farlo. Ok, il primo round abbiamo avuto. Ok, è veramente spettacolare, questo è un genio, però non c'è mappogli, ma c'è sempre un film, cioè guarda che grafica, è bellissima la gamba. Non è rato, è un po' trofezio, perché si fa che sto inserendo un po' di fai. Ok. 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 no! Ok, se no il nome potesai ci rega la domanda! No ma siamo passati in un po' di giro! Che cacchio! P�, comunque l'abbiamo massacrato. Anzi, che stiamo ancora massacrando! Ma se che potenza E' un'altra cosa spero di questo gioco è un 16 anni anche perchè questo è il mio primo video quindi spero che comunque è un gioco e comunque non sia abbastanza bello E' un secondo video che si è trasformato e adesso lo stiamo prendendo Ok allora di trasformarci in un contenitizio C'è un'altra cosa che potenza c'è, un'altra cosa che potenza c'è Ok l'abbiamo avuto Però ora raga faremo un altro scotto e mi sceglierò di personaggi diversi E' un'altra cosa che sono sotto i personaggi di Trambo che comunque c'è la mia preferita Nel senso tra quelli che ci sono nel gioco c'è anche c'è anche il Trambo che mi piacciono Però anche gli altri mi piacciono infatti comunque poi in altri video riporterò anche anche altri personaggi Proprio Ken e poi i ricavatori del gioco Non ce l'avevamo anche il Trambo che mi sono massacrati Non ce l'avevamo anche il Trambo che mi ha preso Noi abbiamo distrutto tutto il gioco Gento la potenza sarà pure stancata Ok capò il primo round l'abbiamo avuto noi E' inutile che ti pare andare di passaggio Ok adesso provo io E' così io non spargo Non ho l'avuto Qui faccio vedere tantissimo che abbiamo praticato Quello che non ho fatto il suo direno C'è chi si è naufilato? E' così guardata Che è l'altro che si sta esistendo Terribilmente E' un mio Dio che cos'è E' un mio Dio che uno spacca E' un mio Dio che ne so ma non si può Grazie a che fornire tutta la pezzetta di Gerda bene ragazzi questo video può finire questo da qui ci sono lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate e noi ci vediamo al prossimo video Grazie